Vi anticipiamo che la puntata di lunedì 26 dicembre 2022 di Terra Amara non andrà in onda, ma che la amatissima SOP riprenderà regolarmente dal 27 dicembre. Vediamo quindi cosa succederà nelle puntate di Terra Amara che andranno in onda dal 27 al 31 dicembre 2022. In assenza di Demir Dallavilla, Gaffur cercherà di approfittare della situazione per avere un suo tornaconto personale e acquisire nuovo potere. Zuleya, senza suo marito a controllarla, deciderà di confidarsi con il suo unico amico, ossia il dottore Sabatin. Per mettere fine alle voci su Ilmaas e Zuleya, Demir rilascia un'intervista in cui racconta, insieme alla moglie, di come è nato il loro grande amore, costringendola a mentire. Mujeygan inizierà a soffrire parecchio per il modo in cui è trattata da Ilmaas. Stanca di non ricevere le giuste attenzioni, penserà che il consiglio della sua amica Fijen di trasferirsi in America potrebbe essere per lei la giusta soluzione. Nel frattempo Ilmaas si troverà in carcere dopo aver avuto uno scontro con dei loschi individui che insultavano l'integrità morale di Zuleya e Mujeygan. Per fortuna, Ilmaas esce di prigione e viene accolto dal padre, che lo riporta a casa. Appena arrivati, il giovane scopre che il suo onore è stato infangato dalla famiglia Yaman. Infine, Ilmaas cerca un chiarimento con Mujeygan, che non avviene, e nel frattempo Fekeli e Unkar convincono Ilmaas e Demir a incontrarsi per risolvere pacificamente i loro conflitti. Ci riusciranno? Per non perdere le prossime anticipazioni, iscrivetevi al canale.